Sì, ripartiamo dal segno del leone, leoni che in questa giornata non avranno molti peli sulla lingua, ecco, diranno le cose così come gli vengono in mente, questo può generare dei duri, aspri, contrasti sul lavoro in maniera particolare ma anche nel rapporto di coppia. Dobbiamo dire che però tutto quello che farete in questa giornata, anche mandare al diavolo qualcuno, è certamente qualcosa che alla fine si rivelerà azzeccato, giusto, perché voi sapete benissimo quello che volete in questa giornata e saprete anche come andare a raggiungere determinati obiettivi e se noterete che qualcuno tenta di mettervi i bastoni tra le ruote non avrete delle grosse difficoltà proprio a toglierlo di mezzo, insomma a sbarazzarvene, ok? Questa è una ruota che parla proprio di cambiamenti nei rapporti personali. Andiamo al...